Bentrovati amici di 4news.it, bentornati in mia compagnia e benvenuti finalmente, aggiungerei su eFootball 2022 versione 1.0, versione mini completa, quella che è l'idea iniziale di Konami per quanto va del nuovo corso del brand PES che diventa eFootball, diventa free to play completamente, versione 1.0 che è arrivata ieri 14 aprile abbiamo già pubblicato questa mattina un articolo sulle prime impressioni che ho avuto dopo aver provato il gameplay e oggi invece andiamo a scoprire come si presenta la nuova modalità Dream Team, ossia l'equivalente del foot di FIFA e il nuovo corso del MyClub del vecchio PES per intenderci, direi subito di bando alle cianci iniziare a creare la squadra abbiamo un sacco di premi da aprire perché dovrei avere un bel po' di bonus veterano quindi andiamo subito a selezionare la squadra perdonatemi per eventuali starnuti o voce nasale ma ho l'allergia, l'allergia stagionale quindi purtroppo sto registrando si sto registrando andiamo a scegliere chiaramente la nostra amatissima Lazio eccola qua la MyClub assolutamente no però la volevo fare un sacco di tempo chiamare la mia mamma, decret, decret, no ho sbagliato, decret, spazio, non, come i datteri bellissimo e andiamo a mettere iniziato IGN, perfetto perfetto, è anche disponibile, non avevo molti dubbi al riguardo andiamo a vedere un pochino come si presenta il nuovo Dream Team squadra del sogno completata sviluppare la squadra dei sogni in un valore Dream Team e sfidere l'avversario, ok bonus accesso giornaliero, va bene bonus accesso 30.000 GP, grazie mille quindi abbiamo anche un'icona 620.000 GP per il bonus da aver giocato 4.000 punti esperienza 600 monete del PS Plus 4.000 punti ESP abbiamo un bel po' di cose da riscattare, dai va bene, va bene, qui il messaggio di di scuse le monete saranno disponibili dal 21 aprile, quindi non possiamo ancora utilizzarlo, va bene eh, va bene, questo è un update importante, il design delle carte potrebbero variare al seguito, va bene così, va bene va bene, va bene, va bene si è arrivato noi da posta ok, andiamo subito a vi iserarmi ai pieneti da posta eccoli qua, questo è inter Preghiamo le notifiche Posto in arrivo I premi 100.000 punti Un bel po' di roba dai Un bel po' di roba Ok preso tutto Completato Andiamo a vedere un attimino Cosa ci dà Contratto Cosa ci assegna il buon pass Ah lista speciali Abbiamo due Abbiamo due Sì Vediamo chi potrebbe uscire Bah Beckenbauer Puyol Beckham Forlan Nakata Romario Viera Roberto Carlos Cole Campbell E Pippo Inzaghi Vediamo un po' chi ci regala Gratis Ancora due giri Ancora un giro dopo questo Vai Primo giro della stagione sui football Ero molto emozionato Bella animazione Bello stadio Bella Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' 5 stelle Vediamo chi è E lui Oh Puyolo Puyolo è buono Puyolo è ottimo Bel difensore centrale Tanta roba Puyolo è tanta roba Tanta roba Puyolo E' anche uno dei livelli più alti Di questi disponibili Quindi veramente una bella pescata Buono Puyolo ottimo 88 Bello Avanti Va benissimo E poi andiamo a fare l'altro giro Vai Secondo giro Di due disponibili Chi ci dai Non dà un altro autoprioto Perché mi arrabbio English League Calchio E Sul Campbell Cioè abbiamo la difesa fatta Fino a finiranno Praticamente Ottimo Nominamento Nominamento per niente Campbell e Puyol Buono 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 Campbell e Puyol E' una bella coppia E' una bella coppia veramente Nominamento Non mi posso lamentare Quindi abbiamo 782.000 crediti Andiamo a vedere Incaggio un giocatore Quindi vediamo un po' Milione e due Lewandowski Kabapeo un milione Cristiano Ronaldo 4.90 Non è male Neuer 4.90 Oblak De Bruyne 7.40 Van Dijk Vabbè I pensieri non ci servono Chiaramente Benzema Bello Neymar 4.90 Neymar Sito Non sarebbe male Neymar Sito Casemiro 4.50 Un bel portiere ci servirebbe Lukaku Poi c'è C'è Holland Martigno Vabbè I pensieri non ci servono Come dicevamo Immobile Immobile Mi piacerebbe molto Immobile Mi piacerebbe parecchio Cancelo pure Non è male Gorizka Leonida Bello Trostegen Trostegen Però voglio prendere un top Io prendere un top Quindi Io andrei Sinceramente Su Adesso Neymar E Cristiano Non decisa Neymar E Cristiano Ma io Probabilmente Venderei più Neymar Dai Abbiamo Neymar Angaggiamo Neymar Assolutamente Sì Neymar Junior Sì Assolutamente Sì Eccolo Ligan Neymar Junior Bellissimo Bello 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 Mi piace Bello Bello Mi piace Hai ricevuto Neymar Junior Bellissimo Come dato Obiettivo Va bene Quindi Cosa ci da Adesso Ok Schema di gioco Gestisci Schema di gioco Va bene Spostiamo I vari giocatori No Abbiamo Modulo Perché Con questo Modulo Neymar Che sia Possiamo Anche Mettere In attacco Neymar In attacco Cambio Formazione Vediamo Un Neymar In attacco Secondo me C'è sta Molto Bene Voglio Provare Un attimino A capire Se effettivamente Neymar Possa Giocare Tutta Neymar Scusatemi Non è ancora Visti Sostituti Di Serve Forse Reserve Poi All Assolutamente Poi Mettiamo Sul Campbell Chiaramente Perché 69 71 Reserve Neymar Secondo me Attacco Può anche Giocare Neymar Vediamo Tattiche Mettiamo Come Ideale Aumenta Di 7 Punti Punti Quindi No Meglio Tenerlo Nel suo Loro Ideale 433 Con Neymar A sinistra Va bene così Ok Va bene Va bene Direi che Così stiamo Abbastanza bene Ok La mia squadra Allena un giocatore Allena un giocatore Allena un giocatore Alleniamo chiaramente Neymar Perché Giocatori Ok Se adesso siamo Neymar Sito Opzione Giocatore Aumenta di livello Allena un giocatore Ok Sì Mettiamo Usiamo questi Masi dai Facciamo All in Su Neymar Dai Vabbè All in Su Neymar Magari dopo No eh Facciamo Sì Facciamo Di fare Il livello Livello 19 Vabbè Non troviamo il livello massimo A sto punto Che ci frega Ma sì Facciamo di fare il livello massimo Neymar Sito Avvia Allenamento No Che cazzo fai Scusate Che cacchio fai Eh Andiamo Allenamento completato Vediamo un po' Neymar Sito Il livello massimo Come si presenta Opzioni giocatore Progresso giocatore Ok Personalità Statistiche giocatore Ok Io aumenterei il tiro Chiaramente Perché la finalità sia Molto bassa Quindi portiamo La finalizzazione A Così va bene 86 Passaggio pure Assolutamente Dribbling È già Già bello Che Comportamento offensivo Forse è meglio aumentare Ok Quindi Facciamo Facciamo 8 tiro 8 passaggio E un po' Di destrezza E aumenta Il comportamento Di accelerazione E il controllo del corpo Però forse è meglio aumentare un po' Di più il tiro 84 Mi sembra un po' Bassino Ok così Dai Va bene così Quanta roba che si può fare Perfetto Bello È diventato La camera Proprio sopra Dopo magari gestiamo Sta cosa meglio Andiamo a modificare Magari la webcam La spostiamo È diventato 91 Attenzione 91 Ne mar Fermi Lo metto qua Scusatemi Abbasso un attimo Il tutto Così potete vedere Anche voi La modifica L'ho fatto Qua vedete Ne mar 91 diventato Da 85 Arrivato a 91 Ottimo Grazie all'allenamento Perfetto Allora usa i punti Usa i punti Sì Sì assolutamente sì Bellis Ne mar 91 Signore Si gode Si gode con ne mar 91 E andiamo a comprare A sto punto Come aveva accolto il giocatore Perché se no Su cacchio Sta squadra Ancora i premi Ancora i premi Mi dava 4 premi Ho fatto un sacco di cose No Ho queste notizie Va bene Se ne ho meno letto Va bene Costi in arrivo Mi sa che Ne ho fatto punti di football Punti di football Abbiamo a che punto Mai Dalla vecchia Vecchio gioco Giocatore oggetti No Il contratto No Non abbiamo niente Vabbè Salvo di sì Vabbè Interrumpi Non abbiamo ancora nulla Lo vediamo Magari in questi giorni Giocatori Iacoaspas L'aria Spiriqueta Belle Ste carte speciali Iacoaspas Moviere volenti Ottieni Possiamo fregare Il gioco E pigliarci Iacoaspas No Vabbè Però queste cose Le vedo Magari Atta La camera Spinter Perché non so Sinceramente Come si gestiscono Il tutto Si gestisce Il tutto Quindi Lo farò con calma Ah Intanto Devo fare una cosa importante Devo Comprare Un giocatore Una squadra Qua pure sto male Per la nostra webcam Perché Mi vedo Ci spostiamo Magari Ancora Ancora Il giocatore Base Voglio Prendere Allora Un buon portiere Che ci serve Assolutamente Queste Non è male 2,92 Anche Oh Frenko Possiamo Prendere Frenko Puglio Mi piacerebbe No Abba No Abba Lan Attenzione Lui Salberto Pure che non sarebbe male Ah Eccolo qua Il sergentone Assolutamente Si Si gode Col sergente Conferma Certo Conferma Assolutamente Sergente Milinkovic Al rapporto Perfetto Avanti E poi Prendiamo Un portiere A questo punto Prendiamo Un portiere Sommer Non possiamo De Gea Nemmeno Muriel Non sarebbe male Giorginio Pure Una bella Scelta Serve Un portiere Giovane E di talento Se facciamo Crescere All'ombra Di Patrizio Manco morto Non si può Mi spiace Poi si mi senti Qualcuno Magari Interessante A un costo A un costo Accessibile Magari Martines No Non mi piace Non mi convince Non lo conosco bene Non Non avrebbe Molto senso Onana Non è male E' 80 Quindi Comunque Parte Da una buona Base Andano Vinci No Smajkotomi Mi piace Smajkotomi E' un portiere Che mi è sempre Piaciuto 79 Non è manco Male Bunupu E' un bel Portiere Ocecchimpe Meret 100.000 Crediti Non so Quanto Mi convenga Fabianski 50.000 Crediti Ospina 50.000 Crediti Buone soluzioni Queste Abbastanza Economiche Antoni Lopez Lopez Non è male Secondo me Non è male Lopez Né Tom E' portiere Pure Né Tom E' portiere Correa Rafa Mognon Magic Mike Magic Mike È forte È forte Sì Però ce l'ho Già su FIFA Quindi Cambiamo Cerchiamo Di prendere Qualcuno Di Di più Interessa Di più Di diverso Ecco Per variare Il più diverso Stavo dicendo Vabbè Un bel Portierino Fatto bene Non ci sta Un bel Portierino Ramsdale No Mi sta Antibatico Non so Perché Filtriamo A sto punto Filtriamo Posizione Portiere Perché ho perso Due ore A cercarli Al mano Non lo so Però va bene Così Filtro Come Noia O black Sono troppo Costosi Di portiere Iori No Sommer No Non mi piace Ripatis 80 Castello Non è male Onana Andano Ismichael Bonu Musso Meret Asenko Antoni Lopez Forse la scelta Migliore Bickford Non è interessato Lulli pure Non è male Perin No Perin No Leno 34.000 Perin Non è manco male Leno Fabio Le Pereina Attenzio Sirigu Marchesin Le Comte Qui si Qua è passato Un trattore Tanto qua Casa mia Gragno Gollini Il Papa No vabbè Andiamo appuntiamo Un po' Più livellato Una buona La buona I potessi Beberet Che è anche Giovane Mi piace 29 livelli Quindi può Stagliare di più 27 Antonio Lopez Rickford 29 Magnan 27 Ramsdale Costa un po' Di meno Aspetto a Melet E Proprio italiano Puntale Nella nostra Scuola dei portieri 27 Lopes Probabilmente Meglio Lopez Spendiamo qualcosina Meret Che è 79 Andiamo di Meret Dai Andiamo di Lopez Andiamo di Lopez Engaggia Engaggiare Entro di Lopez Sì Va bene Una buona Soluzione Per rapporto Qualità Prezzo Avanti Poi vogliamo Engaggiare Una punta Una punta Di un costo Comunque Un costo Accettabile Che possa Aiutarci Questa prima fase De quando Chiaramente No Stiamo Guardate Dai 60 60.000 Crediti In giù Quindi Dobbiamo Fare Buon Acquisto A prezzo Comunque Contenuto 50.000 Meret Non è male Voland Williams Silva Abram No Anche no Allan Sì Anche no Lui Mi spiace Giroud 29 livelli Holler 31 livelli Può fare Non è male Martial 34 livelli Milik 34 livelli Kramaric Malen Attenzione Malen Che Può fare 38 livelli La scelta migliore Probabilmente ci conviene Tenere un po' di Grediti Forse In questa fase Davide Pure Davide è buono Per esempio Davide è molto buono Può fare 37 livelli Kaisel Pantelone Kaisel Si gode Subito 75 Pazzondaka È giovane Costa poco Può fare Un sacco di livelli Non è male Daka Anche Barro Potrebbe essere Interessante Alpha S 239 livelli Può fare Prossimi 100 Perché no Eduvar Gas Bassoire Vabbè No Si va troppo Troppo giù No Poi Devevo Ricadare troppo Mi piace Questo momento Mi ha fatto Più gola Onestamente E' Portato Di apprezzo E' David Sicuramente Ma soprattutto Qual era? Qual era Il Giozzo Dimenticato Malen Malen Sicuramente Malen 34 38 livelli 64 mila Crediti Una buona scelta Economica Malen Che creava Malic Non è male Non è male Non è male Ma pure Abbastanza Milic Anche Martial Pure Holler Sicuramente Anche No Bisogna Una punta Perchè Abbiamo Scegliere Una punta Adesso Secondo me Ignaki No Mertens Nemmeno Osimène Osimène Basta un po' Troppo Werner Calvert Lewin Schick Vabbè No Magari Facciamo Una partita Abbiamo un po' Di crediti Perchè altrimenti Secondo me Non è il caso Al momento Andiamo a Schiamare Gioventà Andiamo a Sistemare I nuovi Arrivi Sostituti Riserve Andiamo a Mettere Lopez Poi mettiamo Il Sergentone Sergentone Milinkovic A Centrocampo Eccolo qua Milinkovic L'abbiamo messo Non capisco Perché i livelli Sono più bassi Però Forse per Colpo di allenatore Non capisco Tattiche Istruzioni Individuali Intanto No Queste Istruzioni Cambia D'allenatore D'informazione Siste di gioco Dalla squadra Possesso Palla Contropiede Eeeh Milaterali 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 Sembra Una buona scelta Eeeh Poi Cambia Stile di gioco Dalla squadra Ok L'azione di live Va bene Ne marra in forma Eeeh Sostituti Non c'è nessuno Di utile Eeeh Non capisco Sta cosa Della 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 natura Però Forse va Azioni No Blocca e svincola Vabbè Forse è un fatto Di familiarità Con i moduli Potrebbe essere Vabbè Facciamoci una partita Sicuramente ci faranno Affette Perché ho visto gente Con degli squadroni Tramorosi Già Da Da Subito Però Ci proviamo Eventi Ah eventi Sì Se c'è un evento Attivo Ottimo Worldwide clubs Entra O spanish league Andiamo con Worldwide clubs Va bene GP Eeeh Forma Allenamento Praticamente In omaggio In premio Andiamo un po' Punti minimi Uno Abbiamo tre partite Per fare Almeno un parigio Toricalmente È fattibile Però Sinceramente Domina GP E mille punti Esperienza Allenamento In omaggio Vediamo un po' Vediamo un po' Perché comunque La squadra Non è proprio il massimo Abbiamo Le mar Abbiamo due difensori Eeeh Presi dal pacchetto Icon Però non mi pare Eeeh Però La squadra È comunque Inferiore A Sono sicuro che Beccheremo qualcuno Di molto più forte Perché Vedete 1954 Almeno 200 punti Di livello Di differenza Tra le nostre squadre Quindi Eeeh Poi io comunque Lo sapete Sono uno che gioca a FIFA Quindi Sto toccando PES Sostanzialmente Per la prima volta E quindi Sicuramente Saremo Suntrassati Però ci proviamo Ci proviamo Assolutamente Schema di gioco Vabbè Diciamo che non Non ho molti problemi Questo punto di vita Quella è Guardate la sua squadra Beccheremo Smalling Beccheremo Beccheremo Filippo Inzani Lissi A Malonaldo Diciamo che La squadra È un tantino più forte Della mia Però Ci proviamo Ci proviamo Sti capelli Improponibili Oggi Non so perché Scusatemi Ecco qua Un pochino Ho sistemato La situazione Andiamo 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 Assolutamente A fare La primissima partita In compagna Di football 2022 Non sarà Non sarà Non sarà Non sarà Un bel po' Di football Vediamo un po' Se non copre niente Va bene Va bene Devo assolutamente Sistemare la camera Devo spostare La web Un po' Il loro supporto Alla vecchia signora Del calcio italiano Non viene mai meno Il player Come detto anche Nell'articolo È molto Molto migliore Bella roba Vestre di Mario Si ci vado Da Chris Smalling E tutto è bene Praticamente Tanta roba Oltre Subano palla Inizione Dino Rete Rete subito Di Mamma mia Estergente Mamma mia Estergente Lui Estergente Lui Non poteva essere Lui Non potesse Che lui A aprire le danze Estergente 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 Nostro meraviglioso Estergente Tanto è bello Telecamera Ma io sto usando questa Vi posso dire Che è molto Molto valida Personalizzata Con 0 di zoom 8 di altezza E 1 di angolo È molto valida Mi ricorda molto Quella di FIFA Più che altro Ce la sto usando Comunque come sapete Io gioco molto a FIFA E mi pare La salute Siamo Io però Mi vorrei spostare Con la webcam Perché Sto coprendo Un po' Dove ci mettiamo Ci mettiamo Qua in alto Scusatemi ragazzi Stiamo Movendo tutto Proprio In live Perché Sto provando Il gioco Con voi Quindi Ci tenevo A fare Una partita In Vostra campagna Quindi Mi sono Proprio Non ho potuto Avete il tempo Materiale Per sistemare Queste cose Mi sono Sicuro Che mi perdonete Ecco qua Perfetto Andiamo Una partita Forza 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 Alla fifa Bug Il calcio D'inizio Alla fifa Come hanno detto Sì Io cosa li fare 1 a 1 Vai sergente Vai sergente Vai sergente Vai sergente Sero come in più Vai sergente Sero come in più Mamma mia Non è bello Sergente ragazzi Non è bello Sergente Vai più Non sarà certo contento Erano passati in vantaggio Ed è di nuovo pareggio Ne è marcito E' prendibile Se ne va Ne è marcito Se ne va Costi in mezzo E' buono Un po' di testa Miracolo Non so portiere di chi sia Però è un miracolo De portiere a bersaglio Vai Piollo Vai Piollo Bravissimo Piollo In copertura Su Cristiano Ronaldo Sergente Milinkovic Sergente Si gira molto bene Sergente Di ne palla Fantastico Poi apre Malet Cioè Poi la palla Brutta prestazione C'è Cristiano Ma c'è anche Carles Pure Hall No però Beh beh Che culo È culo Però dai Che culo Che culo Vabbè 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 dai Comunque In previsione Purtroppo Questa è più forte Non riuscivano Non riuscivano a levargliela Sono in vantaggio di un gol Per l'inerza e la partita è cambiata in loro favore Vai Moldomani Vai Che agente Vabbè subito verso Ne Marsito Ne Marsito Si accentra È immarcabile Ne Marsito Madonna Fallo 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 Ne Mars Prende sta punizione Di prepotenza Vabbè 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 Comandi Teco La direzione Vabbè Per tirare Vabbè Per un tiro Più potente Vabbè Non c'è nulla Di particolare Nella Dissue Dissue Vabbè Vabbè Il tiro Ne Marsito Ne Marsito Bellissima Ne Marsito La piazza Imparabile Le spalle del portiere Che gol Di Ne Mars Non ce lo fa vedere L'avversario E Rosica Rosica Il gol di Ne Mars È il più bello Di best Questo momento Ragazzi Di fitto Anzi Spira Piola Vuoto Piola vuoto Attenzione Campbell Ancora Doppio Campbell Sul Ronaldo Incredibile Sul Campbell Ha coperto perfettamente Il mio errore Con la moto Di Piola È andato estremamente a vuoto E' una volta più forte Gameball di Buiole Nonostante io L'overall E' anche comunque Il ballone Del giocatore reale Era comunque Differente Tanto io stavo controllando Se stessi ancora registrando O meno Perché ho avuto un attimo Di mancamento Che fosse saltata La registrazione Tanto è bruttissima Ma la di Buiole Siamo usciti male Attenzione Bravo Bravo Frank Anaya Molto bravo Un po' di scatti Sto notando Cosa c'è la registrazione Cosa c'è la registrazione Cosa c'è la registrazione Milinkovic Resiste alla carica Di Beckham Ancora Milinkovic In copertura Cosa va dentro Campbell Antigia molto bene Stavolta Molto forte Campbell Molto molto forte Sul Campbell Passaggio sulla destra Va via Va via Bastard della rosa Non so chi sia Ma è bravissimo Stavolta per il pallone Per il nostro amico Vabbè numero 18 Vabbè è per la Juve Se c'è il suo video Portiere Posso sbagliare A puntare sul portiere La Campbell È ovunque Campbell Ragazzi Tutta palla di Milinkovic Troppo prevedibile Colpa mia Non è che Pes È dentro Sicuramente Palla fultrante per Cristiano Ronaldo Tenta Filippo Inzaghi Che pallone colpisce Ti riesce Bravissimo Pes Che nonostante l'uscita Riesce a coprire molto bene il palo Ci salva Una bruttissima Troppo pericoloso Davanti C'è Ronaldo C'è troppa gente Pericolosa Begham 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 Bauer Ruba palla Begham Attenzione Begham Lo ferma Anaya Molto bravo Sto Anaya Nonostante lo vero Bassissimo Lo porta molto bene Può essere gente Può essere gente Brutta palla Brutta palla Brutta palla Non poteva nulla Ho fatto il meglio Bravissimo Puyolo qua Però che culo Non c'ha sto tizio Scusate mie Mamma mia Che culo Scusate Perdonatemi Però E quando ci vuole ci vuole Cioè L'abbiamo fermato 20 volte Stucambol Poverino Sa fare gli straordinari Alla e mezzo Lo pesce Molto bravo Uffalo su Neymar Falo su Neymar Mamma mia Che tiro Bellissimo Di Begham A giro Grandissima fortuna Qui Bravo Qui automatico Moldovanu A toccare il pallone Qualtanto per Sbilanciare la difesa avversaria Neymar 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 Se ne va Non riesce La carica di Bravo Anani Ancora Ancora per Neymar Lì Perchè Mbava L'esce subito Gli dà la palla C'è l'opportunità per il contropiede Tenta Filippo Inzaghi Qui ho Furo Ronaldo Me l'avevo più ora stavolta Me l'avevo più ora stavolta Ce l'ha salvato Neymar scatta Neymar scatta È partito È partito Neymar sito È imprendibile Begham lo segue Begham ma non può fermarlo Neymar sito Ancora Neymar sito Neymar sito Pala e mezzo Verso Moldovano Quella piazza Arriba tutta la Begham Bauer Qua Neymar Neymar Prova un po' a destricarsi Stai c'è potente Bella partita Bella partita Bella partita ragazzi Molto bella Questa è equilibrata Nonostante comunque La grande differenza Secondo me Di Flaeb Secondo me C'è 200 punti Valore Di differenza Su tanti E' brutta Siamo con la palla Qui E poi abbiamo Una azione Capiamo Gole Un bilimento Bravo che Ragazzi Che è in modo Un equilibrio Forte di pure Neymar Neymar Lo vede Lo serve La squadra Guardia Pission Però Un raggio Questa è una bella azione Vieni C'è ancora questo Neymar Bravo Neymar 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 Molto bravo Si distica Perfettamente Pala al piede Neymar Finta di Neymar Che salta l'uomo Perché guarda Però ci rimane Molto bravo Begham Bauer Vabbè Un top player Begham Bauer Sulla destra E più forte Giotore Di quelli Poi come Roll Sprendibili Dall'Icon Bella palla Verso Neymar 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 Può crossare Battlecross Su primo Gole di Neymar Un po' fortuito Un po' fortuito Questo gole di Neymar Però va bene così Va bene Questa doppietta Anche un obiettivo Anche un trofeo Va bene così Va bene così Va benissimo così Dai Neymar Neymar Sito Non sto neymar Sito Attenzione Attenzione CR7 La bomba Va bene così La segna Una volta che la butto dentro Io Va bene così Do di fare Do di fare Do di fare E vai Neymar Vai Neymar 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 Una carta Non stiamo distruggendo Per la stessa palla Poi Bravo Gli sembra Ronaldo Ma che cacchio Sono Ronaldo Neymar La palla è anche loro La palla è anche loro Rimessa laterale Vabbè Non so perché Puyol Impressing La porta via Molto bene L'esperienza La palla verso Neymar Che ha spazio Perché la palla è già libero Neymar 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 Bravo Palla bruttissima Di Moldovano Visto Stavissimo Vai Viscen Molto bravo Sì Vai No Perché va così male Tiva il giro Stiamo soffrendo Stiamo soffrendo Con i punti del campo Popes Poggia a conto Verso Carles Puyol Che apre subito Verso Frank Anaya Che stanco Stiamo cambiando A sinistra Con il passaggio Riceve palla da dietro Ma Neymar Se ne va È buona Non è fuori gioco Cross di Neymar A uscire Verso Milinkovic Che però Non si aspetta il pallone Palla recupera Milinkovic Milinkovic Il destro Miracolo del portiere Miracolo del portiere Su Milinkovic Si è costruito un tiro Con la forza Neymar Possa uscire Di testa Stacca ancora Milinkovic È pericolosissimo Il sergente Sbarbato Il motivo di Milinkovic Quando appena arriva L'Alazio Se ve lo ricordate Tanto Vediamo che la studenta È un cambio C'ho Anaya Che è morto Praticamente Vediamo Un terzino Sinistro Sostituti Sostituti Sarà interessante Vedere come si organizzeranno In campo Adesso A spazzare male Il pallone Abbiamo una buona rimessa Campbell L'apertura morbida Verso Su Issen Se ne ha Un po' scattare È fresco È fresco La serna Non ci arriva Però Fermine Marco Guardate che copertura Milinkovic Guarda verso la serna Che prova a tagliare Bergen Bover Perfetto Ancora Bergen Bover Perfetto Buttava dentro Beh Inzaghi Il tiro È meritatissimo Si ha sconfitto È meritatissimo Si ha sconfitto È meritatissimo Vediamo Vediamo E appareggiarla E' più giusto E' più giusto E' più giusto Oggettivamente Anche Perfetto 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 L'appuntamento Con il gol Evita rischi inutili E la passa dietro Milinkovic Antissima Che bello Vabbè Ovunque Vado dentro Inzaghi Il destro L'inzaghi Detto male Detto male Abbiamo preso due gol Proprio Lugini minuti Abbiamo giocato anche meglio Innanzitamente Però ovunque L'avversario Troppo Troppo più forte A meno È una cosa di squadra Inizio E sono tre E ovviamente Si può Niente Le malva Non riesce Farsi vedere Questa volta Tre minuti di recupero Quindi ci avviciniamo Quindi ci avviciniamo La fine della partita Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Filippo Enzai Che ci ha massacrato Però sono molto 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 soddisfatto Molto soddisfatto Perché Sto vedendo Le ottime cose Questa gestione ruolistica Diciamo Dei giocatori Secondo me Ha un grandissimo potenziale Sono convinto Che Anche lo di gameplay La strada Intrapresa Da Konami Con Questo aggiornamento Di football Sia veramente Quella giusta Io vi invito Chiaramente A lasciare un like Al video A iscrivervi al canale Per rimanere aggiornati Sui contenuti Sui football E non soltanto E anche Di recuperarvi L'articolo Che trovate Dalle 9 di stamattina Del 15 Venerdì 15 Aprile Sulle pagine Di 4news.it In cui parlo Nel dettaglio Del nuovo gameplay Le mie impressioni Sul nuovo gameplay Di EFootball 2022 Detto questo Io vi ringrazio Per la compagnia E vi invito A Chiaramente A rimanere con noi Per ulteriori contenuti Un abbraccio Buona Pasqua Ciao a tutti